Salve a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Crypto51 e mi occupo di CryptoValute In questo video vi voglio parlare di un progetto molto importante legato al mondo degli NFT, i non fungibili token che sta riscuotendo moltissimo successo e si sta praticamente espandendo con questo trend che è sempre più forte Sto parlando praticamente di Rariball, un progetto legato quindi a questo settore, quindi legato al settore degli NFT e andiamo a vedere in questo video come funziona, che cos'è esattamente e addirittura ci dà la possibilità di poter guadagnare dalla creazione di questi NFT quindi ci supporta dalla creazione alla vendita Ma prima di iniziare con il video vi chiedevo di supportare il canale con una bella iscrizione e di lasciare un bel like Quindi come stavo dicendo, Rariball è un progetto legato al mondo degli NFT Faccio una piccola premessa riguardo agli NFT Avevo fatto un articolo sul mio blog che parla appunto di Rariball e di come funziona esattamente Però prima di passare a questo argomento volevo portarvi all'attenzione, per chi non lo sapesse, che cosa sono esattamente gli NFT Allora gli NFT sono dei smart contract che sono stati introdotti da Ethereum circa nel 2015 dove praticamente si appoggiano quindi alla blockchain Ethereum Sono di tipo RC721 e praticamente sono molto particolari perché a differenza dei token fungibili che sono ad esempio token tipo Bitcoin, Ethereum, XRP eccetera Sono token che se noi prendiamo ad esempio un Bitcoin Un Bitcoin è uguale ad un altro Bitcoin E quindi significa che sia per prezzo sia per caratteristiche sono identici Invece per quanto riguarda gli NFT infatti non è così là Anche se hanno uno stesso protocollo ma hanno caratteristiche differenti tra di loro Infatti se noi prendiamo in esempio questo NFT uno qualsiasi Praticamente lui è scritto sulla blockchain di Ethereum E' di tipo RC721 è simile ad esempio ad un altro NFT che è questo qui Ma per caratteristiche è diverso Quindi hanno lo stesso protocollo ma caratteristiche differenti Quindi la caratteristica degli NFT è proprio questa Cioè quella di essere differente tra un NFT ad un altro Con gli NFT si sta creando praticamente un vero e proprio ecosistema Perché grazie a questa funzione quindi questa caratteristica Li rende particolari per fare alcune soluzioni molto funzionari Uno tra queste è proprio quella la creazione quindi di oggetti da collezione Che appunto hanno un valore diverso tra loro Quindi hanno caratteristiche diverse tra loro Però stanno sempre su una blockchain E in questo caso la blockchain di Ethereum Quindi fatta questa piccola premessa Iniziamo con parlare di Rariball e di come funziona esattamente Quindi partendo da questo concetto si è creato praticamente questo progetto Allora che cos'è Rariball? Rariball è un marketplace degli NFT appunto Ci dà la possibilità di creare, di condividere e di vendere o scampiare il nostro NFT In maniera del tutto semplice Infatti ha reso questa funzione molto molto semplice Infatti poi la andiamo a vedere successivamente E ci accorgiamo infatti che è molto intuitivo e molto semplice da creare Rariball praticamente è un progetto che sta sulla blockchain di Ethereum E' di tipo DAO Quindi è una piattaforma autonoma decentralizzata Viene appunto governata dalla community Questa piattaforma ha un token Rarib Token che è molto importante per il funzionamento della stessa Token molto importante perché ci dà la possibilità Oltre a quella di investire quindi appunto sulla piattaforma stessa Ma proprio quella di avere un potere decisionale sulla piattaforma Cioè oltre al semplice voto Anche la possibilità di decidere quale appunto NFT sia più bello dell'altro Oppure di partecipare alle decisioni della piattaforma stessa Rariball è un progetto quindi open source che è in grado di connettersi addirittura con un altro progetto OpenSea Esattamente un exchange per NFT Infatti Rariball ci dà quindi la possibilità di creare un NFT Ci dà anche la possibilità di venderlo Quindi di piazzarlo sul mercato Ora la domanda è Quindi posso creare il mio NFT e lo posso vendere? Ovviamente sì perché con Rariball è possibile E inoltre ci dà la possibilità anche di poter guadagnarci da questa operazione Ovviamente basta solo un po' di capacità di modifica di immagine O creare per esempio un file 3D eccetera E una minima conoscenza di base per poter utilizzare questa piattaforma Attraverso una connessione di un wallet E quindi una minima esperienza per poter operare in questo settore Ovviamente è molto basilare ma quindi è resa molto semplice Questo è un punto di vantaggio per questa piattaforma Ora andiamo a vedere come si presenta la piattaforma Allora sul sito ufficiale che lascerò in descrizione Una volta aperto ci appare questa schermata Dove vediamo a prima impatto Quindi una barra di navigazione Sulla parte in alto Dove qui è possibile interagire con la piattaforma Dopodiché nella parte centrale possiamo vedere I top account verificati E lo possiamo vedere dal segno visto sulla loro icona Questi sono praticamente degli autori più importanti Quelli che hanno totalizzato più vendite E quindi oggetti più importanti Quindi NFT più importanti Mentre nella parte inferiore possiamo vedere gli NFT caldi Cioè gli NFT che sono quelli più seguiti nel momento E poi nella parte inferiore possiamo vedere altri NFT Che stanno in vendita su questo mercato Se vogliamo ricercare un NFT Basta che andiamo a inserire un nome di un creatore O una collezione O addirittura un indirizzo wallet di un creatore E ci appare per esempio un NFT Oppure una pagina di un creatore La cosa importante è che gli autori verificati Hanno sempre un potere molto più fluente Perché sono praticamente autori Che sono stati verificati dalla comunità Quindi sono autori con le opere Che possono valere molto di più Rispetto a autori che non sono verificati Quindi sono autori di un certo calibro Ora invece passiamo praticamente Alla creazione dell'NFT E quindi vediamo come funziona la piattaforma Allora per prima cosa dobbiamo connettere Il wallet per interagire con la piattaforma stessa Ovviamente faccio una piccola premessa Che chi opera sulla blockchain ad esempio di Ethereum Bisogna sempre collegare un wallet Per avere il corretto funzionamento della piattaforma Allora ci connettiamo con un browser wallet In questo caso utilizzerò Metamask Vado ad inserire la password E a questo punto ci siamo connessi Infatti lo possiamo vedere qua in alto a destra Ovviamente ci sono 0 RARI RARI è come abbiamo detto prima E' il token nativo della piattaforma E quindi nel wallet stesso Ci carica direttamente i token che abbiamo all'interno E ce li importa sulla piattaforma Quindi ora passiamo a vedere come creare l'NFT Allora per poter creare un NFT Basta andare in alto a destra su Create E a questo punto si apre una schermata Dove ci dice di selezionare tra single o multiple Cioè creare un singolo Oppure una serie Quindi una collezione Nel nostro caso mettiamo single Allora qui praticamente si apre la schermata Proprio di creazione dell'NFT Allora l'NFT si può creare Partendo praticamente da un file PNG, GIF, WebP, MP4 o MP3 Massimo quindi 30 MB di spazio Quindi questa parte qua E' una parte di pre-creazione dell'NFT Cioè qua bisogna creare quindi l'NFT Ad esempio se utilizziamo un'immagine Attraverso Photoshop Quindi creiamo il nostro NFT E dopodiché lo carichiamo Su questa schermata Io ad esempio metterò un file Un file ad esempio Un'icona di Bitcoin A questo punto nella parte destra Ci appare quindi la preview Cioè l'anteprima Dopodiché correndo verso il basso Ci sono altre impostazioni Per la creazione dell'NFT Innanzitutto partiamo con Put on sale Che significa Metterlo in vendita Quindi se sta spuntato questa barra Significa che l'NFT Una volta creato Verrà messo in vendita Se invece non lo vogliamo mettere in vendita Basta che spuntiamo questo E a questo punto scompare la parte di sotto In questo caso facciamo finta Che lo vogliamo mettere in vendita Andiamo qua e mettiamo Instant sale price In questo caso mettiamo Il nostro prezzo di vendita Che può essere in Ethereum Dai, Rari o Atri Ad esempio mettiamo un Ethereum Giusto per fare un esempio E a questo punto ci dice Le fee della piattaforma Che sono 2,5 E quando andremo a ricevere Se in questo NTF verrà venduto Dopodiché Scorrendo sempre verso il basso Andiamo ad abilitare O disabilitare La possibilità di bloccarlo Attraverso Che ne so Un codice O un link Eccetera Ovviamente questa è una cosa secondaria E mentre qui andiamo a selezionare Il tipo di NFT Che andremo a creare Ovviamente sono tutte e due Contratti RC721 Ma se noi andiamo a selezionare Questo qua su Rarible È un NTF dedicato proprio Specifico alla piattaforma Rarible Ovviamente è vendibile anche su OpenSea Quindi è vendibile anche qui Se noi infatti andiamo su Su Browseware E andiamo a mettere per esempio Rarible Infatti ci appaiono Tutti gli NFT Dedicati a Raibo Quindi è effettivamente Raibo E quindi è una piattaforma Specifica Invece se noi mettiamo Un RC721 Classico formato Ma è possibile Praticamente creare un NFT Generico In questo caso su OpenSea Non lo troviamo Perché qui Ci sono le categorie specifiche Cioè Crypto Kitty Eccetera Mentre qua andremo a creare Un NTF generico Se noi andiamo a mettere Su Crate RC721 Andiamo a caricare Un'immagine Andiamo a mettere Un nome Dell'NFT Un simbolo Per esempio PRV Una descrizione Trova E Non lo so Un link Adesso A questo punto Ci da la possibilità Di crearlo Basta confermare La transazione Con il wallet Che abbiamo utilizzato Prima Per entrare Sulla piattaforma In questo caso Dovremmo pagare Delle commissioni Alla rete Di Ethereum Che si aggira Intorno a 624 dollari Quindi al momento In cui sto registrando Questo video Bisogna pagare Questa commissione Alla rete In questo caso Non ho nessun Ethereum Sul wallet Quindi non mi fa Quindi non mi fa Confermare La transazione Non appena Avremo Quindi Quest'importo Sul wallet Andremo a fare Conferma E a quel punto Andremo a confermare Quindi la creazione Dell'NTF Mentre se noi Selezioniamo Quindi il formato Rari Quindi RariBall Andiamo a mettere Di nuovo qui Il nome La descrizione Ovviamente Questa è opzionale Andremo a selezionare Le royalty In questo caso Ha selezionato Un consigliato 10% E qui andremo A selezionare Le proprietà Dell'NTF In questo caso Mettiamo Uno Ad esempio Oppure mettiamo La caratteristica Ad esempio Rosso Oppure Arancio Eccetera Eccetera Quindi possiamo creare Quindi le nostre Proprietà Una volta Fatto Tutti Questi passaggi Ecco qua Avevo sbagliato A mettere Science Possiamo Antare Su Create Eteam In questo caso Ci dirà Di confermare Di nuovo La stessa Transazione Di prima Sembra Con le stesse Fee Oppure Potrebbero Cambiare E quindi Con riconfermare Di nuovo E confermare Quindi tutta La transazione Quindi L'NFT Verrà scritto Sulla Blockchain Di ethereum Quindi Praticamente In poche parole Rarible È una piattaforma Quindi Che ti aiuta Alla creazione Delle NTF Cioè Partendo Da Un file Png GIF Web PMP4 Massimo Quindi 30 megabyte Ti dà la possibilità Di caricarlo Sulla Piattaforma Stessa E dopodiché La piattaforma Lo converte Nel formato RC721 E lo trascrive Sulla Blockchain Ethereum A quel punto È che è stato creato Quindi il nostro NFT Un'altra cosa Importante È Praticamente Il token Rari Token Rari Che è Di fondamentale Importanza Per la piattaforma Perché Dà La possibilità Agli utenti Oltre di Confermare Quindi di votare Le proposte Che vengono fatte Sulla piattaforma Dà anche La possibilità Di votare Le migliori opere NFT Che stanno A momento Sul mercato Il token Rari Ne esistono Praticamente 25 milioni Del totale Di cui Il 10% Sono stati dati Tramite Airdrop Nel mese Di luglio Mentre Il 30% È riservato Al team E agli investitori Quindi per Portare avanti Il progetto Della piattaforma Il restante 60% Viene dato Praticamente Ai partecipanti Della rete Quindi ai partecipanti Della piattaforma Ogni settimana Cioè colui Che ha acquistato O venduto O creato Un NFT Sulla piattaforma Quindi in una settimana Verrà Praticamente Dato Questo Rari Pol Questo Rari Questo token Che servirà appunto Quindi alla partecipazione Della piattaforma Stessa Attualmente Se andiamo Su CoinMarketCap Ce ne sono Esattamente In circolazione È di circa 855.330 Su un totale Quindi di 25 milioni E per concludere Andiamo a vedere Il sistema Di voto Che utilizza La piattaforma Quindi come dicevo Prima Andremo a votare Una proposta Ad esempio Questa qui Apriamo Questo sempre Connetta Nel nostro Wallet E andremo a vedere Che cosa parla La proposta Andremo a vedere In questo caso Questa proposta È stata Chiusa Ma se noi Andiamo Indietro Possiamo vedere Alcune proposte Aperte Come ad esempio Questa qui Dove praticamente Per andare a votare Basta andare Qui Ovviamente Non connettendo Il wallet A questa piattaforma Non mi dà la possibilità Di votare Non appena collego Il wallet E all'interno Ci sono dei rari Con quei rari Potrò votare Quindi se avrò Un rari A quel punto Praticamente Il mio voto Valerà un rari Quindi Abbiamo visto Con questo video Come funziona La piattaforma Rariball Come creare Un NFT Come venderlo E Come utilizzare La community A nostro favore Per Diciamo Capire Il trend Di un NFT Oppure per condividere Una nostra creazione Quindi Con questo video Ho concluso Se vi è piaciuto il video Lasciate un bel mi piace E ci rivedremo Alla prossima